Bella raga, qua è Savis che vi parla, bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale Oggi ragazzi vi porto un metodo per colorare le nuove biciclette che come ben sapete o c'è con la livrea o c'è nera e gialla Quindi andiamo sul sito delle biciclette e una volta che siamo sul sito delle bici raga andiamo a selezionare appunto questa bicicletta Noi la andiamo a comprare, guardate bene il sito in alto e cercate di ricordarlo, finisce con Detalis 9 il mio Quindi a questo punto andiamo sulla casetta, andremo su leggendari e una volta che siamo su leggendari andiamo su tre porte A questo punto scorriamo fino in fondo ragazzi e andiamo a cercarci questo veicolo qua Pegassi Monroe, a questo punto lo selezioniamo e con questo veicolo decidiamo il colore Io userò il blu raga quindi lo seleziono ma non compro il veicolo A questo punto torniamo in alto tramite l'orologio e andiamo sul sito ragazzi Guardiamo bene che è quello di prima, il mio sarà questo Lo clicco e saremo di nuovo sul sito delle biciclette A questo punto facciamo ordina ragazzi e andiamo a comprare la bici Io la sostituisco su questa BMX A questo punto raga una volta che sarà arrivata la bicicletta E sbada bam raga Finalmente avremo la nuova bici elettrica che è una figata colorata un po' come ci pare Quindi lasciate un like se vi è piaciuto il video, lasciate un commento, supportate il canale E alla prossima, bella raga Ciao! 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 Grazie a tutti.